E siamo qui non per parlarvi di un semplice spettacolo ma per darvi una notizia. Manuel Frattini non è guarito. Ci hanno detto che la malattia è grave, è contagiosa, ce ne parlerà lui stesso. Si chiama sindrome da musical. Ahimè, sì, non si guarisce, almeno nel mio caso si peggiora con l'andare del tempo. Però sono felice di questa cosa, dico appunto da tempo di essere affetto da questa sindrome di Peter Pan che si è aggravata ulteriormente, si è proprio dilagato in una sindrome da musical. E guarda, parlo così un po' in punta di piedi di questo spettacolo perché quando parli di una cosa all'interno della quale interpreti te stesso, ti racconti, parli dei musical che hai fatto, le canzoni che hai interpretato, i ruoli eccetera, c'è sempre quell'equilibrio delicato che non deve barcare diventare presunzione, autocelebrazione eccetera. E quindi insieme a Elena Biolcati, autrice del testo, Stefano Dorazio, ormai immancabile Angelo Custode da tempo, e Alfonso Lambo che ha curato la regia, siamo riusciti a trovare questa chiave ironica, carina e divertente per riascoltare appunto brani noti degli spettacoli che ho fatto, ma non solo, anche dei classicissimi, ci sono dei medley da Grease, medley del cinema musicale degli anni Ottanta, e anche un tributo a Michael Jackson con proprio tanto di cappello, piano piano, anche quello sottovoce, perché insomma ci sembra giusto farlo, no? Insomma ha ispirato così tanti e noi non siamo scampati a questo e ci abbiamo provato. Quindi una retrospettiva ironica. Assolutamente sì, sì, sì. E tra l'altro è una malattia che ha contagiato anche altri personaggi del musical, perché non sei solo sul palco, hai un cast importante, tutta gente di un certo tipo malata quanto te. Sì, malata quanto me, ed è bello sottolinearlo questa cosa, perché è uno spettacolo che vive proprio di questo, vive delle persone che ci sono all'interno, quindi mi escludo in questo momento, ma vi assicuro, lo so che spesso lo si dice di ogni cast, eccetera, io ho avuto veramente la fortuna di avere dei compagni di lavoro bravissimi, eccetera, in questo caso, proprio perché è uno spettacolo con una scena fissa, una scala molto bella, una proiezione che ci aiuta ad incorniciare alcuni momenti dello spettacolo, ma fondamentalmente è fatta da un cast di persone eccezionali che in questo momento veramente sono tra i migliori che ci sono in Italia. Cioè, ognuno di loro potrebbe raccontare una propria storia, capito? Facciamo qualche nome. Facciamoli tutti? Facciamoli tutti. Facciamoli tutti. Ci sono Angelo Di Figlia, Christian Ruiz, Andrea Verzicco, Eleonora Lombardo, Lucia Blanco, Nadia Schlerani, Schlerani sai perché? Perché so per arrivare alla sclerotica psicologa che è Silvia Di Stefano. Quindi un cast importante per uno spettacolo che tu però in realtà tendi sempre un po' a, come dire, lo definici senza pretese. In realtà non è così, perché è uno spettacolo importante e anche faticoso per voi. Guarda, è faticosissimo, questo sì, infatti ti dico, mi sgridano quando dico, non devi dire che senza pretese, nel senso che chiamarlo musical forse saremmo un po' presuntuosi, però è uno show musicale che parla di musical e che vive proprio sul talento di queste persone. Invitiamo gli amici di musical e di Central Park a venirvi a vedere, sarete in giro durante tutta l'estate un po'. Sarete in giro tutta l'estate, avremo Pescara il 18 luglio, il 19 a Ferento vicino a Viterbo, 20 a Porto Recanati, poi andremo a Isole, Sicilia e Sardegna, ma la cosa che mi fa piacere dire a tutti quanti voi è che riprenderò Peter Pan nella prima parte della stagione, ma da febbraio ci sarà un tour invernale di sindrome da musical. E allora per tutti i malati di musical andiamo a vedere Manuel Frattini in sindrome da musical. Grazie. Vi aspetto, ciao.